buona serata da Eleonore sto svolgendo una stesa per quanto riguarda la situazione appunto del mese di gennaio è un riassunto rispetto alla diretta che ho fatto prima ma faccio questo riassunto appunto per pubblicarlo nei canali dove non è possibile fare delle dirette allora la situazione inizio mese vi faranno credere che siano tutte rose e fiori questa situazione poi ha un peggioramento la prima decade ci sarà un forte peggioramento forti restrizioni in 7-8 regioni ci sono diverse persone che stanno lavorando sotto a tutto ciò e queste persone possono essere nel campo anche esoterico hanno conoscenze anche in questo campo e molto spesso quando si mettono in ballo diciamo sistemi come quello attuale bisogna che ci siano conoscenze esoteriche poi vi posso dire che a fine mese ci sono dei problemi seri nel senso che molte persone inizieranno a capire l'errore fatto a fidarsi di questi personaggi e dare fiducia a personaggi che non la meritavano e poi ci troviamo a fine mese nel totale sbando io vi posso dire che questa stesa diciamo mostra delle caratteristiche tipiche di problemi abbastanza pesanti però io vi dico di non mollare mai perché questa cosa del fatto che ci saranno appunto dei ripensamenti diverse persone arriveranno a capire come la situazione della fregatura che c'è sotto questo mi fa pensare bene per il futuro anche se non saranno cambiamenti nel brevissimo termine quindi dovete avere molta molta pazienza perché tutto ciò si fonda sulla pazienza e resistenza io vi auguro una buona serata